Ciao a tutti voi da Rosi, appuntamento con la nostra vetrina dell'auto con City Motors e lascio subito la parola a Massimo Mancini perché è una puntata ricchissima di tante tante novità. A te Massimo. Ciao Rosi, buongiorno, buonasera anzi amici cari. Per cortesia regia, fammi il primo piano perché io su questa cosa qua ho bisogno di ringraziare i miei clienti che hanno nel mese di febbraio che hanno voluto seguire il mio consiglio. Qualcuno di voi si ricorderà che io avevo detto amici venite a comprare la macchina o comunque a prenotarvi entro la fine del mese di febbraio perché partiranno degli incentivi dalla regione Lombardia. Ebbene sono partiti gli incentivi della regione Lombardia il primo di marzo. Peccato che il 2 di marzo sono finiti, sono esauriti i fondi e quindi i nostri clienti che hanno avuto fiducia in me, nelle parole che gli avevo detto, hanno acquistato la macchina alla fine del mese di febbraio. Abbiamo inserito i loro bonus il primo giorno di marzo e quindi loro magicamente hanno avuto modo di acquistare una Iaris ad esempio con 9 mila euro di bonus, amici cari. Questi signori hanno comprato la Iaris con 9 mila euro di bonus, quindi vi ringrazio e penso che voi possiate anche ringraziare me, quindi diciamo ci facciamo un abbraccio in diretta. Sì direi che è reciproco insomma, è reciproco. Tornando invece alla trasmissione di questo momento, io vi dico attenzione, quindi ve lo dico per tempo, a marzo, entro marzo finiranno anche gli incentivi statali. Sicuramente i fondi si esauriranno entro questo mese, pertanto quello che sentirete stasera vi consiglio di approfittarne più velocemente che potete. Quindi tutte le nostre auto praticamente sono ibride, tutta la gamma è ibrida, tutta la gamma gode di incentivi. La macchina che vedete qua a fianco a me, la novità di questi giorni è la super Toyota immensa. È grandissima. Enorme. Ibrida, si chiama Highlander, ne parleremo più tardi. Adesso la parola, il microfono all'auto dell'anno 2021, la nuova Toyota Yaris. Buonasera anche da parte mia, subito parola da Yaris. Come scusa? Beh non so se riuscite a sentirla, ma se foste qui vicino a me capireste che questa è una macchina che mantiene quello che promette. Vi dice che ha 10 anni garanzia e Toyota li rende fattibili grazie alla manutenzione Toyota. Vi dice che consuma pochissimo e qua abbiamo il motore full hybrid più innovativo del mercato, migliore del mercato. Ormai ha proprio avuto modo di prendersi una grandissima rivincita proprio nei confronti di tutte quelle vetture che oggi si chiamano hybrid. E Yaris dice oggi vi do qualcosina in più, vi do la sicurezza, la fidabilità, vi do i consumi, vi do il piacere di guida. Chiaramente tutto quanto ha marchiato Toyota e Yaris ne è il simbolo perfetto. Giusto Massimo? È quello che dicevo prima amici cari, questa è l'auto dell'anno 2021. È stata votata unanimamente, unanimamente no, non è giusto, dalle maggiori testate automobilistiche e dopo aver fatto una selezione con delle auto bellissime, con delle auto importantissime. E quindi la Toyota con la Yaris ha vinto questo ambito premio. Che poi naturalmente quando gli altri non lo dicono, è che vuoi che sia l'auto dell'anno. Però insomma l'auto dell'anno vuol dire moltissimo. E da tanti anni che c'è stato questo premio, la Yaris lo vinse nel 1998, allora quando uscì con la prima versione. È un caso che poco oltre 22 anni, 23 anni, praticamente torna a rivincerlo con la versione, con l'ultima generazione, con il motore full hybrid migliore di sempre. Quindi amici cari, questa cosa va oltre ma quanto costa la macchina, va oltre ma che garanzia mi dai, va oltre... Cioè oggi come oggi, voi vediamo i clienti quando vengono qua, vengono a fare un giro con la famiglia, così, li mettiamo a fare il test drive con la macchina, finito il test drive, magicamente si siedono e hanno il piacere di continuare l'avventura con Toyota comprando, acquistando una di questi gioielli. Rispondiamo anche proprio a quanto costa questa vettura. Ebbene Yaris nella versione benzina, quindi un motore 1.172 CV, parte da 13.800 euro, sempre grazie agli incentivi di rottamazione statali. Invece la sua versione full hybrid da 17.300 euro, sempre nella stessa modalità con gli incentivi statali di rottamazione. Però è una macchina, come dicevo prima, molto molto ricca. In tutte le sue versioni abbiamo la sicurezza che è di serie e parliamo di una sicurezza 2.5. A parte gli acronimi che sono per i pochi appassionati, è una macchina che ha l'anticollisione, che riconosce pedoni, biciclette, autoveicoli, l'assistenza alla frenata d'emergenza, cioè la macchina vi aiuta ad evitare qualsiasi problematica che possiate avere sulla strada. E tutte quante con l'applicazione Apple CarPlay Android Auto per la massima connettività con il cellulare e la telecamera posteriore. Capite che è piccola ma grande nei contenuti. Assolutamente. Credo che per Yaris abbiamo speso moltissimo, d'altra parte è la nostra auto più venduta, andiamo a vedere il resto di gamma. Buonasera a voi, siamo arrivati anche a CHR, perché la Yaris è l'auto dell'anno, però CHR è stata l'auto di questi anni, perché è una delle auto più vendute insieme a Yaris e sicuramente è un prodotto che si allinea con tutta la nostra gamma. Un prodotto che volevo anche segnalarvi e dirvi e ringraziarvi, perché poi ci avete accreditato di tanta fiducia, abbiamo fatto un lavoro l'anno scorso, Massimo non ne ha parlato, ma abbiamo fatto un lavoro molto importante. Abbiamo superato del 10% quello che è stato l'anno del 2019. Nonostante sia stato un anno un po' faticoso da passare, speriamo in situazioni migliori per quest'anno, però abbiamo fatto un più 10%, un più 10% che indica che a differenza della vendita sul nazionale almeno 25%, vuol dire che finalmente abbiamo aperto questa porta, fatto capire a voi tutti che l'ibrido è il motore del futuro, il motore che vi dà sicuramente delle chance per quanto riguarda il full hybrid. E anche lì vorrei fare una riga sotto full. Mi raccomando, quando venite in salone, soprattutto a Bellusco, io sapete lavoro nella sede di Bellusco, mi venite sempre a fare i paragoni con prodotti simili, molto interessanti, molto importanti, ma non full hybrid e quindi magari con prezzi un pochino più competitivi. Ricordatevi sempre che un conto è il prezzo di quello che pagate la macchina e un conto è il costo. Cosa voglio intendere per questo? Pensate a una vettura che vi costa poco per fare la manutenzione, che vi costa poco di assicurazione, che vi costa poco di bollo, che vi dà una garanzia se fate un pagamento paper drive, quindi con un valore futuro garantito altissimo e quindi delle rate bassissime. Non pensate solo al costo di listino, ma pensate anche a quello che è il prodotto in sé per sé, con i suoi consumi e le sue prestazioni. Pensate ad avere una garanzia di 10 anni sulla vostra macchina. Anche quello è molto importante. Pensate al valore di rivendita con una macchina che gode ancora di una garanzia, magari la vendete dopo 4 anni, la macchina è ancora garantita 6 anni per il futuro acquidente. Diventa interessante anche per noi perché non vi diamo la garanzia classica che si veda sull'usato, ma vi diamo una macchina magari di 4 anni con 6 anni di garanzia. Volete un usato con 6 anni di garanzia che ha 4 anni? Noi l'abbiamo. Allora amici, su questo Renato ha tutta la ragione del mondo. Poi non mi va di fare una puntata a continuare a incensarci perché noi vogliamo farvi vedere, testare e poi se vorrete vendervi una macchina di queste. Però ci crediamo talmente tanto che questo prodotto, alla fine il sistema ibrido di Toyota, è di gran lunga il miglior sistema per acquistare un'auto. Non c'è diesel che tenga, non c'è ancora elettrica che tenga, perché l'elettrico purtroppo ha il difetto di dare ansia. Cioè noi vi vogliamo togliere il problema dell'ansia di dover... Ah, io compro la macchina, poi c'ho a casa a Sanremo, non so se ci arrivo. Eh no, non puoi comprare la macchina e non sapere se ci arrivi. Un giorno ci arrivi, un giorno no, a casa tua a Sanremo o in un altro posto che magari è distante 300 km dalla... Quindi va bene pensare a un'auto elettrica per restare in città, ma se il vostro uso della macchina non è solo in città, allora l'auto ibrida, ma full hybrid, magari Toyota, allora acquista tutto un altro senso. E col CHR abbiamo in questo momento l'auto più venduta degli ultimi anni, quindi sicuramente con questo prodotto qua. Però alla fine i nostri clienti ci dicono, va bene, ma quanto costa? Il prezzo, che non è il costo, ma ricordiamo solo il prezzo, e poi comunque venite a fare anche l'assistenza da noi, capirete cosa intendo per questa cosa. Oggi fino a 7.000 euro di sconto rottamazione, con la rottamazione statale, perché la regionale è svaporata, come direbbe qualcuno in poco tempo, però fino a 7.000 euro si parte da 24.500 euro, la versione Active, full option, la versione CHR base, anche se poi di base veramente non c'è proprio nulla, perché abbiamo cruise control adattivo, frenata pre-collisione, tutti i sistemi di sicurezza, quindi avete una vettura completissima con 24.500 euro. Venite a farci vedere il vostro usato, che poi vale sempre la regola che 1.500 euro per demolirlo, ma magari vale di più, anche se ha 10 anni, parliamone, parliamone e vediamo un attimino com'è. Assolutamente amici, noi siamo alla caccia delle vostre auto da rivendere, quindi anche se aveste una macchina a gasolio, o anche vecchia, oltre i 10 anni, che però magari ha un basso chilometraggio, allora quella macchina magari la ritiriamo, e evitiamo di fare la rotavazione statale pagandovela ancora più soldi rispetto a quello che vi fa la rotavazione statale. Troviamo sempre il sistema comunque per farvi monetizzare più soldi possibili dal vostro usato. Questo vale naturalmente anche per le macchine di un anno di vita, uno ha comprato una macchina per un qualsiasi motivo, non si trova bene, amici cari, venite qua e noi ve la valutiamo e ve la ritiriamo sempre alle migliori condizioni del mercato, ovviamente a fronte di un acquisto delle nostre vetture. Andiamo a vedere anche qualche altra cosina di Toyota. Dai, qualcosina di nuovo. Eccoci qua, siamo arrivati a RAV, vi teniamo ancora un po' sulla corda per la sorpresa che vi accennavo prima, quindi cominciamo a vedere il nostro cavallo di battaglia RAV, che è un prodotto storico appunto di Toyota. Anche qui le stesse offerte molto 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 importanti per quanto riguarda la rottamazione statale, oggi viene offerta 6.000 euro per la vostra vettura, anche se da rottamare, oppure venite, che valutiamo la vostra macchina, e da 30.600 euro vi portate via una RAV full optional, completa di tutte le cose che sono appunto di serie, come fa di solito Toyota. Macchine disponibili ce ne sono, faccio un piccolo passo indietro anche con CHR, una buona disponibilità, quindi venite a provare le macchine sia di CHR sia di Toyota RAV, che vi daremo sicuramente a una vettura quasi in pronta consegna. Stanno arrivando anche, attenzione, le RAV plug-in, su cui facciamo un eco-incettivo molto importante, fino a 11.000 euro appunto di sconti con rottamazione, e il prezzo parte da 45.500 euro, quindi il plug-in è la nuova versione che avremo presente nei nostri saloni ad aprile-maggio. Venite a trovarci, parliamo anche di quello. E adesso andiamo alla novità, Massimo. Eh, direi proprio di sì, amici. Sono qua che vi aspetto. Guardate, sono qua, bello paciarotto, su questa vettura che sinceramente è, oggi come oggi, la vettura veramente più importante che ha Alistino Toyota, è la vettura più importante per le famiglie numerose. Cioè, intanto abbiamo sette comodi posti, abbiamo, nel caso si volesse viaggiare in cinque, un bagagliaio di dimensioni abnormi, pazzesco, di dimensioni veramente esagerate. Quindi, per coloro che sono abituati ad avere una macchina di quasi 5 metri di dimensioni, quindi stiamo parlando di 4,95 metri, Comfort, pazzesco, direttamente dalle fabbriche degli Stati Uniti, perché questa macchina viene prodotta dalla Toyota, per gli Stati Uniti e per l'Europa, ma nelle fabbriche statunitensi, abbiamo l'Eylander. Eylander è un nome che in Europa si conosce quasi per niente, ma in America è molto famoso, perché è uno dei SUV più venduti negli Stati Uniti. monta un motore da 250 cavalli, quindi grande potenza, con prezzi veramente, adesso a qualcuno sembrano alti, ma in verità non lo sono, paragonato magari alle vetture tedesche, vero Marco? Assolutamente, è un mezzo che parte dai 47.200 euro, e vogliamo rimarcare il fatto che questo qua è anche un full hybrid, o meglio, è solo un full hybrid. Questa versione, nonostante la grandezza, nonostante la capienza, nonostante la potenza del motore, è ancora un full hybrid. Capite qua la potenza di Toyota dove arriva? Dalla più piccola al più grande SUV del mercato. Giusto Marco. Io ho ancora 40 secondi per dirvi, amici cari, vi ricordo che noi vendiamo anche, siamo anche distributori dei furgoni di Toyota, sui furgoni, la nuova legge di bilancio, prevede un 10% di ristorno praticamente sulle tasse, pertanto voi se acquistate un furgone, oltre a tutti gli sconti che vi facciamo, il 10% vi viene restituito sotto forma di mancato pagamento delle tasse. Ci sono pochi secondi ancora, per cui vi chiediamo di venirci a trovare in tutti i nostri showroom, per parlare di tutto l'ibrido e anche per parlare di furgoni, se ne avete il piacere. Vi aspettiamo numerosi, un abbraccio e alla prossima. Ciao. 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 Ciao.